In realtà il mister Spalletti mi aveva dato alcune occasioni, non sono stato bravo io a sfruttarle, mi è mancato qualcosa, probabilmente non era ancora pronto, non avevo ancora svoltato con la testa, non ero ancora fatto quel passaggio dal calcio brasiliano al calcio italiano, quest'anno ho iniziato la stagione con una testa completamente diversa e adesso riesco a esprimere tutte le mie potenziali. E sempre migliorare!